Allora facciamola breve ragazzi, sono seduta qua su questa sedia alla scrivania davanti al monitor del mio computer da tipo un'ora e mezza e sono stata un'ora e mezza a scervellarmi cercando di farmi venire un'idea per fare un video carino, un pochettino originale per lo speciale 9000 iscritti e voglio essere brutalmente sincera perché oggi è una di quelle giornate in cui purtroppo le idee difficilmente riescono ad agganciarsi le une alle altre per cui voglio essere sincera e dirvi che in quest'ora e mezza ragazzi non ho combinato assolutamente niente nella mia testa c'è il vuoto totale, non sono riuscita a pensare a nulla di carino per fare questo video e mi dispiace, mi dispiace però diciamo le cose come stanno ragazzi purtroppo è una di quelle giornate in cui è difficile magari trovare un senso a quello che si fa è una di quelle giornate in cui appunto è difficile organizzare le idee, è difficile mettere in ordine la propria vita e voglio essere sincera con voi e dirvi quindi ragazzi che non ci sarà uno speciale 9000 iscritti perlomeno non un video particolare, non un video speciale e prendiamolo questo ragazzi come video per lo speciale dei 9000 iscritti un video in cui vi dico quanto sia confusa la mia testa in questi momenti però appunto ci tenevo a ringraziarvi, a ringraziarvi tutti quanti per appunto questo incredibile nuovissimo traguardo che il mio canale ha raggiunto traguardo che non mi riesco a spiegare perché ragazzi non mi sarei mai aspettato di raggiungere per esempio 5000 iscritti, figuriamoci 9000 e adesso road to 10.000 ma chissà se mai ci arriverò e se mai ci dovesse arrivare what the fuck, continuerò a chiedermi perché il mio canale raggiunge questi traguardi sapete benissimo ragazzi che purtroppo la mia considerazione di me è pari a zero fondamentalmente per cui nonostante io non riesca a spiegarmelo vi ringrazio comunque veramente di cuore a tutti quanti tutti quelli che comunque mi sostengono da anni ormai tutti quelli che magari mi sostengono da pochi mesi o quelli che si sono appena iscritti hanno deciso di dare fiducia a questo canale e ai miei video grazie, grazie veramente di cuore come sempre non faccio altro che ripetervi soltanto la parola grazie non so che altro dire fondamentalmente sempre non so che altro modo esprimere la mia gratitudine nei confronti appunto di tutti voi che magari siete sempre lì pronti a sostenermi a sostenere i miei video, a sostenere qualsiasi cosa io faccia e penso siete troppo buoni, troppo gentili come sempre non credo di meritare tutto questo e probabilmente adesso arriverà il solito sapientone che scriverà nei commenti che ho fatto questo video soltanto per leggere in commento voi che mi dite ma no giocherina che dici? ti sottovaluti i tuoi video sono belli, sei brava insomma sti cazzi grandissimi il sapientone può andarsene amaramente a fare in culo oggi non è una di quelle giornate ragazzi in cui ho dei freni inibitori per cui scusate se sono brutalmente sincera nelle cose che dico ma oggi è così, oggi è così non sto capendo manco tanto io che cosa sta succedendo nella mia testa quest'oggi ma non preoccupatevi non preoccupatevi perché comunque sto bene starò bene e le cose torneranno ad essere normali e quindi tutto qua volevo ringraziarvi anche se in maniera così semplice direi ridicola per questo nuovo traguardo dei 9.000 iscritti se tutto questo è possibile ragazzi come sempre grazie a voi che appunto ci siete sempre io vi ringrazio anche per questo vi ringrazio per il sostegno per l'affetto per la gentilezza che mostrate sempre nei miei confronti vi voglio un mondo di bene semmai qualcuno lo stesse per chiedere i gameplay torneranno la settimana prossima ovviamente come sempre a partire da lunedì non so se il prossimo sarà l'Irsofiero o Doki Doki in ogni caso riprenderemo come sempre ragazzi gameplay da lunedì per cui credo di non di non avere nient'altro da aggiungere vi chiedo scusa se il risultato del mio sforzo sia stato soltanto questo pessimo video ma purtroppo oggi va così grazie a tutti ragazzi vi mando un bacione e vi voglio bene ciao raga